E ora di questo italiano cantiere ci parla Mario Luzzi attraverso Pamela Villoresi. La lingua è un universo in cui entriamo alla nascita, ci inoltriamo nella puerizia e ci aggiriamo poi durante tutta la vita. La riceviamo e la produciamo, la conserviamo e la trasformiamo più o meno consapevolmente. Ci accomuna come specie, talora è una lingua condivisa, talora un dialetto circoscritto, più molto altro ancora che significa, esprime, comunica, ma fra tutti i codici semiologici, la lingua, la parola. E' il vertice, la lingua è dentro di te, tu sei fra le sue braccia. Pensate, popoli presi in cattività, deportati in altri territori, costretti a lasciare la propria atavica lingua per balbettare in un'altra. O anche migrazioni coatte per miseria, fame, violenza, che impongono il grave mutamento ai parlanti. L'esilio linguistico non è, a mio parere, più lieve da sopportarsi che quello degli affetti e del dolce loco. E la lingua per l'artista è come un cantiere, un cantiere tutto attivo e praticabile, dove anche pezzi o strumenti in disuso possono tornare utili ed efficaci. Una lingua è un cantiere e i suoi operai operano senza turni di lavoro, costantemente. La madrelingua riceve e raccoglie l'affetto delle esperienze serie e persino delle marachelle dei propri figli. Si arricchisce di invenzioni, di trovate, di nuovi possibili costrutti, di significati transitori o improvvisi. Tiene conto di tutto, anche se molto sarà da buttare. La forza impositiva di una lingua è incalcolabile. Come è, si dice, anteriore alla nazione italiana. Lo è, ma solo apparentemente, perché proprio nel farsi della sua lingua nasceva la nazione italiana, come sogno, miraggio, aspirazione, desiderio. Questi sono veri stimoli e moventi dell'anima italiana. Occorrono tutti quanti perché la nazione viva in noi italiani. Ora, in questo tempo terribile e angosciante, la parola è stata troppo adulterata, la menzogna troppo corrotto. La poesia, senza avere medicine miracolose per risarcire le ferite, richiama l'uomo di fronte a se stesso, gli fa sentire ciò che gli viene tolto. Scuote la coscienza, risveglia qualcosa di oscuro, denunzia i desideri e gli impulsi che sono stati soffocati. Che cosa si addice di più alla parola se non la temperatura del fuoco? La poesia interviene a scongiurare l'afasia, si oppone a questi tempi urlati. Vola alta parola. Cresci in profondità. Tocca nadire zenith della tua significazione, già che talvolta lo puoi. Sogno che la cosa esclami nel buio della mente, però non separarti da me. Non arrivare, ti prego, a quel celestiale appuntamento da sola, senza il caldo di me, o almeno il mio ricordo. Sì, luce, non disabitata trasparenza. La cosa è la sua anima, o la mia è la sua sofferenza? Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.